Alfonso Signorini è un giornalista, conduttore televisivo, scrittore, autore televisivo, conduttore radiofonico, regista, manager e produttore televisivo italiano, direttore editoriale della rivista settimanale Chi, conduttore del Grande Fratello e del Grande Fratello Vip. Attimi di paura per Fernanda Lessa, l'ex Jeffina che negli scorsi giorni ha pubblicato un reel in cui appare con il volto tumefatto e pieno di lividi. In questa occasione, la modella brasiliana ha specificato che l'incidente risale a due settimane fa, ma oltre a non averne parlato con nessuno. Le sue condizioni attuali non sono del tutto ottimali. Fernanda stava semplicemente portando i suoi due cani a passeggio nel parco quando è inciampata e caduta rovinosamente dal sesto gradino. Dovrebbe essere stata solo una passeggiata con i miei due cani al parco, ha scritto nel suo posto invece sono caduta dal sesto gradino di faccia per terra. La caduta ha provocato gravi contusioni al volto, con un ematoma esteso sul lato destro e un taglio alla sopracciglia, che ha richiesto quattro punti di sutura. Fortunatamente, come ha sottolineato Fernanda, non ha subito danni più seri come fratture agli zigomi, al naso o ai denti.